Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Il file di cui parleremo oggi è forse uno dei casi più famosi e sicuramente più brutali avvenuti in Cina. Parleremo di una donna che è stata tenuta prigioniera e maltrattata brutalmente fino alla sua morte. Starete pensando forse che sia una storia come molte altre. Tuttavia, ciò che ha reso questo caso così tristemente noto sono le modalità in cui la vittima è stata trattata. Proprio per questo motivo vi avverto, questo file sarà particolarmente raccapricciante. Non lo faccio spesso, ma questa volta sconsiglio vivamente la visione alle persone particolarmente sensibili. Chi conosce già la storia sa già cosa sta andando incontro, ma la buona notizia è che finalmente abbiamo un aggiornamento sul caso. Per chi non la conoscesse invece preparatevi, questa storia vi farà rabbrividire, incazzare e disgustare al tempo stesso. Quindi davvero, se pensate che tutto questo sia troppo, ci vediamo con il file del prossimo venerdì senza problemi. Hai sentito? Ragazzi, ho sentito un rumore in cucina, non so se tenere... Mi sto spaventando. Benissimo, in cucina non c'è niente e nessuno, non ci sono i miei gatti. C'è stato un rumore, credo che l'abbiate sentito. Comunque, ricominciamo. Ok, però prima di cominciare a parlare di tutte queste cose brutte, e fidatevi ragazzi sono davvero brutte, è finalmente arrivato il momento di annunciare i vincitori del giveaway dello scorso venerdì. Quello che vedete da qualche parte qui è il video dell'estrazione dei 10 vincitori delle magliette. Come vedete è tutto casuale, quindi se non avete vinto non incazzatevi, non è colpa mia. Grazie davvero a tutti per aver partecipato, siete stati tantissimi e tutti gentilissimi. Ho già controllato e per fortuna tutti i vincitori hanno seguito le regole, per cui verranno contattati da me su Instagram per ricevere il premio. Le t-shirt purtroppo, data la poca disponibilità, saranno assegnate casualmente ad ognuno dei vincitori. Comunque speriamo davvero che l'iniziativa vi sia piaciuta e ancora una volta grazie per il supporto. Se avete gradito e vorreste altri contest in futuro, vi ricordo che su Pampling trovate tutte le magliette del giveaway, ma anche in generale tutte quelle che indossono i video. Inserendo il codice Andrew, come al solito, all'acquisto avrete anche un paio di calzini a scelta in omaggio. Scusate la lunga interruzione, so che non vedete l'ora di scoprire la storia di oggi, quindi non perdiamo altro tempo. E iniziamo subito. La donna di cui vi ho accennato in precedenza si chiama Fan Man Yi. Fin dalla sua nascita non ha mai avuto una vita molto felice e tranquilla. Durante la sua infanzia i suoi genitori la abbandonano, costringendola a crescere da sola in un orfanotrofio di sole ragazze. Ma non solo. Per qualche motivo, che non sono riuscito a scoprire, all'età di soli 15 anni le viene detto che doveva andarsene. In quella struttura, infatti, gli orfani potevano rimanere soltanto fino ai 15 anni d'età, quando si è ancora un bambino in pratica. Visto che lei non era stata adottata e non aveva un posto dove andare, comincia a vivere per strada e diventa presto una senza tetto a tutti gli effetti. Inizia a fare piccoli furti in giro per la città per potersi comprare giusto il minimo per sopravvivere. Nello stesso periodo, essendo costretta a frequentare persone e posti poco raccomandabili, comincia anche a fare uso di sostanze stupefacenti. L'uso sporadico, però, col tempo diventa sempre più frequente e presto cade nelle dipendenze. Fan, però, con i furti, riusciva a malapena procurarsi i soldi per mangiare e decide così di ricorrere alla cosa che secondo lei era più facile in quel momento, ovvero prostituirsi. Dopo qualche anno in queste condizioni, si ritrova costretta a lavorare in un bordello. Questo lavoro, almeno, le permette di avere un minimo di stabilità finanziaria. Adesso aveva sia i soldi per mangiare che per mantenere le sue dipendenze. Quindi gli anni passano e all'età di circa 20 anni, Fan riesce ad ottenere un lavoro come ballerina in un nightclub karaoke. È qui che, grazie a questo lavoro, finisce per innamorarsi di uno dei suoi clienti. Sfortunatamente, però, anche questa parentesi della sua vita non fu delle più felici. L'uomo incontrato nel bar, infatti, era anche egli un tossicodipendente. Ma, come immaginerete, a Fan non interessava. Per questo, nel 1996, i due si sposarono. Suo marito, però, iniziò presto ad avere dei comportamenti preoccupanti nei confronti di Fan. Era diventato violento e parecchio possessivo. Nonostante tutto questo, i due fecero comunque un figlio insieme. I loro litigi, però, con l'arrivo del piccolo non cessarono. I vicini, addirittura, si svegliavano spesso con le urla del bambino, per poi proseguire con le urla dei genitori che litigavano per ore ed ore nel bel mezzo della notte. All'inizio del 1997, nonostante avesse lasciato da poco il lavoro, Fan aveva ricominciato a lavorare come produta. Questa volta lavorava in un vero e proprio bordello. Si chiamava Romance Villa ed era situato a Kowloon. Kowloon, attualmente, è l'area urbana di Hong Kong con la più alta densità di popolazione di tutta la Cina. È un'area di shopping, arte e divertimento. Ma un tempo ospitava addirittura il luogo con la maggior densità di popolazione in tutto il mondo. In passato questa si chiamava Città Murata di Kowloon. Era famosa per la criminalità e le condizioni disastrose in cui si trovavano i suoi cittadini. Pensate che arrivò ad ospitare una densità di popolazione di 1,3 milioni di persone per chilometro quadrato. Ma nel 1995 il governo cinese decise di riqualificare l'area e demolire quegli edifici per farla diventare ciò che è oggi. Ma torniamo alla nostra storia. Dopo aver lavorato in quel locale per un po', Fan durante una serata conosce un uomo molto più grande di lei, chiamato Chan Man Lok, di 34 anni. Chan era un uomo molto ricco ed era abbastanza conosciuto in quella zona. Aveva cominciato a frequentare spesso quel posto. E nel giro di poco tempo era diventato uno dei migliori clienti di Fan. Lei si sente immediatamente attratta da lui, perché era dipendente dalle sostanze e la popolarità di Chan indovinate da dove veniva. Esatto, Chan era uno spacciatore di quella zona e lavorava anche come pappone. Oltre a questo era un membro molto importante della Triade. Per chi non la conoscesse, la Triade è un'organizzazione criminale nata alla fine del 1700, situata principalmente a Hong Kong, ma presente in tutta la Cina. È paragonabile per certi versi alla mafia occidentale. Chan non era quindi una persona con cui si può scherzare, ma anzi se è possibile è una persona da tenere bene alla larga. L'uomo era solito fare lunghe sessioni notturne in cui, oltre a pagare per la compagnia delle ragazze e di Fan in particolare, offriva sempre dozzine di dosi di metanfetamina e altri tipi di droghe. Fan, che era sempre presente quando c'era lui, piano piano inizia a sentirsi a suo agio, tanto da non aver quasi più paura, nonostante sapesse benissimo chi avesse davanti. Una notte, durante uno di questi incontri, Fan decide di rubargli il portafoglio con all'interno 4.000 dollari di Hong Kong, l'equivalente di circa 500 euro. Non sapeva però che quello si sarebbe rivelato l'errore più grande di tutta la sua vita. Chan, infatti, si accorge presto del furto. Insieme a due dei suoi scagnozzi, riesce immediatamente a risalire a Fan. Chan era furioso e nonostante la donna si fosse subito scusata e proposta di ripagare tutto quello che aveva rubato fino all'ultimo centesimo, a Chan non bastava. Oltre a restituirgli quello che gli aveva rubato, le chiede altri 10.000 dollari di interessi, solo per avergli mancato di rispetto. Lei ovviamente non aveva quella grossa quantità di denaro, e gli dice che avrebbe avuto bisogno di tempo per pagare tutti quegli interessi. Sentendo questa richiesta, Chan si arrabbia ancora di più. Capisce che non avrebbe avuto tanto presto quello che voleva, e la riteneva un'ulteriore mancanza di rispetto. Nel marzo del 1999, quindi, Chan, insieme a due dei suoi uomini più fidati, decide di rapire Fan. I suoi due complici erano Leung Xing Cho, di 27 anni, e Leung Wai Lun, di 21 anni. I tre la rapiscono e la portano in un appartamento di proprietà di Chan nella Granville Road. Era un appartamento mezzo diroccato, però la posizione era ottima in realtà. C'era un gran viavai di gente, e la polizia non passava così spesso in quelle zone. L'idea di Chan era quella di costringere Fan a prostituirsi senza sosta, fino a quando non avrebbe guadagnato abbastanza da saldare il debito. Così cominciò il suo losco giro di affari, che però non avrà mai fine. Non era mai soddisfatto della somma di denaro che Fan guadagnava, e continuava ad aumentare gli interessi sul suo debito, rendendole impossibile ripagarlo del tutto. Oltre a farla lavorare senza sosta, i tre uomini cominciano anche a sfogare le loro frustrazioni su di lei. Viene spesso maltrattata, e cominciano anche a picchiarla. E qua ragazzi comincia la parte davvero cruda del video, quindi veramente, lo ribadisco, chiudete se non siete pronti, se non volete sentire, è molto triste, molto brutale. Nel caso in cui fosse ancora qui, torniamo al video. Ogni volta che Fan faceva qualcosa che al gruppo non andava bene, la riempivano di botte, e ben presto, a forza di essere picchiata, non riusciva neanche più a prostituirsi. Questo per il gruppo non fu altro che un motivo in più per picchiarla ancora di più, perché ormai non gli serviva quasi più a nulla. E se pensate che questo sia terribile, il peggio deve ancora arrivare. Oltre ai tre uomini, si aggiunge un nuovo membro a quel gruppo, una ragazzina di appena 14 anni, conosciuta come A. Fong. Non si conosce il suo vero nome, perché all'epoca dei fatti era minorenne, per cui è stato scelto di non divulgarne l'identità. A quanto pare, comunque, questa ragazzina era la fidanzata di Chan. In realtà, all'epoca dei fatti aveva 13 anni, neanche compiuti 14, mentre Chan ne aveva 34. Comunque, nonostante lei fosse molto giovane e ovviamente manipolata dagli uomini, anche lei non era da meno. Le piaceva molto aiutare il gruppo a torturare Fan. Rideva e si divertiva mentre lo faceva. Inizia anche ad inventarsi dei nuovi metodi per infliggerle sempre più dolore, e non si tirava mai indietro quando si trattava di farle del male. La legavano e la prendevano a pugni e calci ripetutamente. Gli uomini abusavano di lei a loro piacimento come se fosse un oggetto. L'hanno persino costretta a mangiare i suoi stessi escrementi. Arrivati a quel punto, però, i modi che usavano per farle del male non li divertivano più. Cominciano così ad usare gli oggetti che trovano in giro per quell'appartamento mezzo abbandonato. La prendono ammazzate, con una barra di ferro probabilmente di qualche tubo buttato in un angolo. Poi passano a picchiarla e pugnalarla con qualsiasi oggetto che trovano in cucina. Forchette, coltelli, pezzi di mobili spaccati, qualsiasi cosa. Quando Fan non ce la faceva più e probabilmente sveniva dal dolore, loro cosa facevano? La legavano al soffitto proprio come un sacco da box. E la usavano come tale. Durante questo periodo, secondo alcune teorie, Fan sarebbe addirittura rimasta incinta. Ma potrebbero essere soltanto delle speculazioni, non si hanno certezze. Ma tutto questo, ovviamente, al gruppo non bastava, non bastava ancora. Quando ero ancora cosciente, i quattro le mettevano delle spezie piccanti sulle ferite aperte, per vederla soffrire ancora di più. Inoltre, per assicurarsi ulteriormente che non potesse scappare e muoversi più di tanto, le bruciavano spesso la pianta del piede con delle candele, e a volte ci scioglievano sopra dei pezzi di plastica rovente. Un'altra cosa inquietante è che durante queste torture, Fan era costretta a sorridere. Doveva dire che le piaceva quello che le stavano facendo, ed essere convincente perché altrimenti l'avrebbero picchiata ancora più forte. La ragazzina, a Fong, in merito a tutto questo, dirà alla polizia. Era un gioco quello che facevamo. Se lei non fingeva di essere felice, l'avremmo picchiata ancora più forte. Le dicevano di sorridere mentre la bruciavano. Era un'atmosfera divertente. E mi sono venuti i brividi. Cavolo. Arrivarono al punto in cui inizierono ad usare Fan come un gabinetto. Le urinavano e le defecavano addosso. Era un vero e proprio climax di violenza e umiliazione. Alla fine smettono anche di darle da mangiare altre cose oltre ai loro fluidi corporei, che ormai erano diventate la sua unica fonte di sostentamento. Non le concedevano un solo secondo di sollievo. Le davano anche delle scosse con dei cavi elettrici. In tutto questo continuavano comunque a proporla a dei potenziali clienti che ovviamente si rifiutavano di consumare dei rapporti sessuali con lei, viste le condizioni in cui si trovava. Era arrivata al punto in cui sembrava un cadavere nonostante fosse ancora in vita. Non si muoveva nemmeno più. Sempre Ah Fong disse. Era rotta. E giocare con lei non era così divertente a quel punto. Ma abbiamo comunque continuato. Non c'era nient'altro da fare. Una notte il gruppo decide di uscire e bere qualcosa in un bar e a fare un giro per la città. Per assicurarsi che Fan non potesse scappare, fanno quello che facevano solitamente, ovvero la legano e la buttano sul pavimento del bagno chiudendo poi a chiave la porta. Quei maltrattamenti stavano andando avanti da davvero tanto tempo ormai, circa un mese. E quella stessa notte, ovvero il 15 aprile del 1999, mentre il gruppo si trovava fuori a bere e a divertirsi, Fan morirà da sola, legata in quel bagno. Una fine davvero triste, che nessuno si meriterebbe. Più tardi il gruppo tornò in quella casa. Erano tutti completamente ubriachi. E non gli interessava nemmeno andare a vedere come stesse Fan. Andarono a dormire e la mattina successiva, come se nulla fosse accaduto, Fong dice di aver usato il bagno. Ed è in quel momento che si accorse che Fan era morta. Una volta comunicata la sua morte al resto del gruppo, cominciano a discutere animatamente. Non riuscivano a trovare un accordo sul modo in cui avrebbero dovuto sbarazzarsi del corpo. Erano spaventati perché avevano paura che la polizia li avrebbe arrestati. E finirono per litigare ore ed ore. Perché non riuscivano in nessun modo ad essere d'accordo su quale metodo fosse il migliore. Si mettono anche a discutere su cosa avesse causato la sua morte, come se fosse difficile capirlo. Comunque per calmarsi un attimo, poverini, i quattro decidono di andare nella sala giochi a giocare a dei videogame per tranquillizzarsi e schierirsi le idee. Non è uno scherzo, lo fecero davvero. Nel frattempo si fa buio e il gruppo va a dormire esausto, dicendo che ci avrebbero pensato il giorno dopo, senza dargli nemmeno troppa importanza. La mattina successiva, infine, Chan arriva ad una conclusione. Sarebbe stato troppo difficile sbarazzarsi del corpo intero. Avrebbero sicuramente attirato molta più attenzione. Così trova una soluzione. Il corpo doveva essere distrutto al più presto. Quindi mettono il cadavere di Fan nella vasca da bagno e cercano in giro per casa l'oggetto più adatto per tagliarla. Tra le macerie dell'appartamento trovano una sega a mano e con quella cominciano. Una volta che il corpo era stato diviso in pezzi più piccoli, decidono anche di bollirli per evitare che i resti andassero ulteriormente in decomposizione e anche per riuscire a separare la pelle dalle ossa. Fong, sempre la ragazzina, racconta un episodio avvenuto in quei giorni. Mentre stava dormendo, Chang, una mattina, la sveglia, agitandole un sacchetto pieno di budella davanti alla faccia. Ok, chiusa questa parentesi. Comunque, tornando a quel giorno, poco dopo, mentre erano ancora intenti a disfarsi del corpo, Leung Xing Cho chiama la giovane Fong per farle vedere una cosa davvero macabra. Leung stava bollendo la testa di Fan e voleva che la giovane la guardasse perché lo trovava divertente. Lei ha detto che era spaventata e non voleva guardare. Lui la rassicura e le dice di pensare che quella non fosse una testa vera. Come quando guardava i film. Riesce quindi a convincerla e così la giovane apre la pentola e la guarda. Sorprendentemente, quel consiglio era corretto. La giovane dirà in seguito che quelle cose orribili da raccontare in quel momento non le facevano per nulla paura o ribrezzo. Era come se davvero non stesse vivendo qualcosa di reale e non le faceva nessun effetto. Dato che ci stavano mettendo davvero tanto a fare il tutto, iniziavano ad avere fame. Come si fa ad avere fame in un contesto disgustoso del genere non ne ho propria idea, ma in questa storia per una persona normale è difficile trovare un senso a qualsiasi cosa ovviamente. Ma sentite appunto che cosa stanno per fare. Nello stesso momento in cui dei pezzi di Fan stavano bollendo, nel fornello accanto si mettono tranquillamente a cucinare dei noodles. E come se non bastasse, sembrerebbe che con lo stesso cucchiaio abbiano mescolato la loro zuppa e i resti di Fan. Dopo quasi dieci ore erano riusciti nel loro intento di distruggerla. Non rimaneva praticamente più nulla a parte le ossa del teschio. Per qualche ragione ad oggi ancora sconosciuta, al posto di sbarazzarsene, decidono di metterlo in un pupazzo di Hello Kitty a forma di sirena. Da qui prende il nome questo caso. Decidono però di tenere altri pezzi, come se Fan fosse un souvenir. Lasciano un dente e alcuni organi in delle buste di plastica. Il resto del corpo lo smaltiscono nella spazzatura del condominio senza destare alcun sospetto. Nessuno si accorse di nulla e per circa un mese le cose erano calme. Sembrava che fossero riusciti a scamparla. Questo almeno fino al maggio del 1999. Durante quel mese la giovane A Fong si reca ad una stazione di polizia in preda al panico. Spaventata a morte, dice alla polizia che secondo lei un fantasma la stava perseguitando. Disse agli agenti che questo fantasma era stato legato ad un cavo elettrico e ucciso. La polizia pensa immediatamente che si trattava di una classica storia inventata sui fantasmi e che quei dettagli ovviamente non fossero veri. Quindi non la prendono seriamente, cercano di mandarla via. E è a questo punto che Fong rivela che lei aveva partecipato all'omicidio di questa donna. Ed era per questo che il suo fantasma la stava perseguitando. Gli agenti, una volta venuti a conoscenza di queste informazioni, cambiano drasticamente atteggiamento. Le chiedono di raccontare esattamente come sono andate le cose e nel sentire quello che avevano fatto, rimangono inorriditi. Alla fine la seguono fuori fino all'appartamento dove secondo la giovane era avvenuta quella carneficina. E una volta arrivati scoprono per loro sfortuna che tutto quello che aveva detto era vero. Gli indica subito la bambola di Hello Kitty e all'interno trovano il teschio di Fan. L'intero gruppo, dopo la confessione, viene trovato e interrogato. La versione degli uomini però è completamente diversa. Secondo loro, infatti, in quell'appartamento c'era un piccolo bordello illegale e Fan era l'unica a lavorare ancora lì. Un giorno però, a detta loro, Fan, che era conosciuta per essere una tossicodipendente, sarebbe andata in overdose e loro, presi dal panico, avrebbero soltanto fatto l'errorino di non chiamare la polizia e sbarazzarsi del corpo. Questa versione però venne smentita dal marito stesso di Fan che al processo disse che lei si era disintossicata grazie alla nascita del suo figlio. Loro comunque si dichiaravano innocenti per tutte le accuse di torture e abusi. Questo caso diventa rapidamente conosciuto in tutta Hong Kong. Non era mai avvenuta una cosa così orribile prima di allora, specialmente in una città sicura come quella. E un elemento che ha reso questa storia così riconosciuta è l'accostamento della figura iconica di Hello Kitty, innocua e dolce, ad una cosa così macabra e disturbante. Il processo durò per sei settimane. Ah Fong continuava a testimoniare in cambio della sua completa immunità e per la sua convinzione che se avesse confessato tutto il suo fantasma l'avrebbe lasciata in pace. Rivelò tutti i dettagli, ogni singola cosa disgustosa che l'avevano fatto. Durante il processo sono state anche portate le prove materiali relative al caso in aula. Portarono il frigorifero dove erano ottenute le buste con alcuni resti, le pentole che erano state usate e lo stesso cranio. I tre uomini vengono anche valutati da un gruppo di psichiatri che li descrissero alla corte come delle persone completamente spietate. L'ostacolo più grande in quel processo era che non vi erano prove tangibili per le accuse di Fong, perché il corpo ormai era sparito. Visto che non potevano sapere effettivamente cosa fosse successo, gli uomini non vengono condannati per omicidio volontario, ma colposo. Insomma, la corte era convinta che avevano commesso quelle cose, ma purtroppo non potevano provarle. Nonostante questo, il giudice Peter Nguyen nel dicembre del 2000 ha condannato i tre all'ergastolo. Gli diede anche la possibilità di richiedere la libertà vigilata, ma non prima di aver scontato vent'anni in prigione. E sentite questa. Una coincidenza assurda è che Peter Nguyen morirà esattamente vent'anni dopo aver emesso questo verdetto. Nel 2020. Cioè, lui ha dato vent'anni di prigione e dopo vent'anni è morto. È strano. Alla sentenza aggiunse anche queste parole. Mai a Hong Kong negli ultimi anni un tribunale ha assistito a tanta crudeltà, deprivazione, insensibilità, brutalità e violenza. Fong disse di essere soddisfatta del fatto che i tre avrebbero passato la vita in prigione. Lei invece è stata rilasciata, senza accuse. Ma non si hanno notizie su dove sia adesso. Sinceramente non riesco a capire come mai a questa ragazzina non sia stato fatto nulla. È vero che è stata manipolata e ha avuto una vita poco semplice. Ma è sempre la stessa quattordicenne che ha dichiarato che ha preso parte alle torture per la curiosità di vedere cosa si provasse a infliggere dolore a un altro essere umano. E ha partecipato a tutto, ragazzi, a tutto. Come minimo avrebbe dovuto essere messa in un carcere minorile o in qualche modo riabilitata. Ma io non sono un giudice, quindi. Durante gli anni seguenti, gli avvocati degli uomini hanno cercato di appellarsi per una riduzione di pena, ma senza successo, per fortuna. Nel 2014 i tribunali hanno consegnato il teschio di Fan, l'unica cosa che rimaneva di lei, alla sua famiglia, che lo ha fatto cremare e poi lo ha sepolto. L'appartamento, invece, rimasto vuoto per anni, aveva iniziato ad attrarre numerosi visitatori curiosi. Questi si recavano lì per cercare di entrare in contatto con il fantasma della povera Fan. Molti di loro dissero di aver trovato svariate candele accese posizionate a forma di cerchio in tutto l'appartamento, come se qualcuno avesse provato a svolgere qualche strano rito. Questa e varie altre esperienze strane vissute dalle persone che ruotavano intorno all'edificio hanno fatto sì che l'intero blocco di appartamenti venisse abbattuto completamente nel settembre del 2012. Oggi quindi non rimane più nulla dell'appartamento in cui è avvenuta la tragedia, ma qui avviene la seconda macabra coincidenza. Nel 2016, appena 4 anni dopo, proprio lì è stato costruito un hotel che oggi è accessibile e nel luogo effettivo in cui è avvenuto l'omicidio è presente un ristorante. E pensate comunque che ci sono state delle dichiarazioni secondo cui lo spirito di una donna sia stato catturato dalle videocamere di sorveglianza dell'hotel mentre Giro vagava nei dintorni dell'edificio. Oramai dal giorno della sentenza sono passati più di 20 anni e sembrava che non ci fossero più nuovi aggiornamenti su questa storia. Almeno non sono arrivati fino a noi. Sembrerebbe che i colpevoli siano ancora in prigione senza aver ottenuto la libertà vigilata, tranne uno di loro. Si è da poco scoperto che Leung Xingqiu infatti è stato rilasciato nell'aprile del 2014. Il suo avvocato era riuscito a farlo rilasciare per mancanza di prove ma recentemente nel gennaio del 2022 mentre lavorava come cameriere a quanto pare avrebbe toccato il seno di una bambina di 10 anni e per questo motivo è tornato fortunatamente in prigione ma venne condannato ad un solo anno di reclusione. Io sono scioccato. Sono scioccato. Tutto questo è scioccante. Comunque su questo caso vennero anche fatti diversi film anche se non sono molto conosciuti quello forse più famoso tra questi si intitola There is a secret in my sob. Questo ragazzi era l'orribile caso di Hello Kitty. Come potete immaginare è ritenuto uno dei peggiori casi true crime al mondo e spesso viene anche paragonato alla storia di Junko Furuta che per molti versi può risultare addirittura peggiore di questa. Avremo sicuramente modo di parlare anche di lei. Adesso ragazzi fatemi sapere se vi aspettavate tutta questa crudeltà e violenza spero di non avervi traumatizzati e ditemi anche se pensate che in qualche modo il fantasma di Fun sia davvero ancora nei paraggi di quell'edificio maledetto. Detto tutto questo come a solito vi ringrazio per la visione spero di aver raccontato bene questa storia dato che non sono abituato a così tanta violenza e spero anche di non aver mancato di rispetto a nessuno dato che è una cosa davvero molto delicata ho provato a raccontarlo al meglio delle mie possibilità se ho fatto qualche errore o qualcosa ovviamente ditemelo e detto tutto questo vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao